stanco si ma stanco per gesù basta ragazzi anche se il car non mi knock up di spacco uguale scusa il tunnel io atterrerei atterrerei qua ragazzi che c'è da buon calcio questo è mio questo è mio questo è mio questo se ne va questo non è più mio non è più mio e dove cazzo stanno ho preso un assist come vuol dire che ho vittato qualcuno sparando totalmente a casa caglietta sarebbe sarebbe troppo pure uno sciacallo non è male con uno sciacallo come start easy con uno sopra mi ha mirato con il cecco quel ragazzo lui ha un cecco bisogna stare attenti perchè non mi ha guardato che è cecchinato come un popopollo potete arresto lasciarli dietro non è possibile che non lasciarlo dietro potete arresto c'è un potere da riostro no l'ho caricato penso che sono scemo che l'ho tutto ci saluta giocano ma è quell'altro mamma per favore internet non lo so io avevo il wifi acceso c'avevo pure gli altri mi scambano la killo porco zio porco c'ho delle laggate assurde c'ho delle laggate assurde oh miro del culo eh la sto laggando sto laggando ragazzi sto laggando ragazzi ma mi sparano tutti a me ma ragazzi ma che cacchio c'hanno questi oh i biker mice oh non sento oh oh my god e vabbè raga oh solo questo col pellicano lo ammazza oh mamma mia ma che è oh 80 persone raga mamma mia oh questo si è cagato sotto eh è in singolo però sembra una battaglia delle termopili porco due i 300 spartani oh bene scappando questo a volo battaglia delle termopili allora c'è roba buona non la prendo non sto sento qua via perché la prima safe via nuove vento uccidi moon madonna santa oh mamma mia oh la safe arriva ma io volo via volo via volo via e volo via oh mi sono toppato oddio questo è il merda questo cazzo di mitaglione è enorme questo caso raga è un po' lenta mira è qualcosa che non va non mi registra i colpi ci mette troppo tempo a uccidere le persone con questo mitaglione là davanti che vede proprio tipo che lo prendo e non è uscito andiamo a fa' il culo uno col cotino oddio lo salciserizzo questo io salgo ma non faccia le salgo mamma mia 3 2 1 bruschettina bruschettina brrrrra ah ma tu hai riguolo le prima ah ma tu hai riguolo le prima ah ma hai riguolo le ah ma è ronco un vino italiano dove? vengono dietro sta scappando sta scappando lo scendo e lo uccido lo uccido voglio ucciderlo voglio fargli un action fatta ah 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 BASTARDO oh che sono le guardie scappa manco lato il camion manco lato sto bastardo arrivi a me il camion scappa scappa allora c'è uno qua sopra ce l'abbiamo uno davanti pure quello là sopra va bene va bene così va bene così carino che sei il spara spara spasta su ce l'acepa dai 3 2 1 bruschetta oh ok via andiamo qua andiamo mi metterei io mi metterei alla centrale però non è in safe ve ne metterei non è in safe non vedete se c'è qualcuno vediamo anche se è rischiosissimo salire muovete e muovi la testa così almeno un tepia non fai se fai a testa sinistra muovetevi con me così ragazzi scolettate con me scolettate 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 sempre se i camion poi non me lo inculano perché è comunque c'è di consuetudimi che vengo il culo non mi chiami non c'è per quale motivo ma me lo inculano di brutto allora qui non c'è nessuno potrei prendere le taglie per uscire 3 2 1 bruschetta l'ho crackato dannazione l'ho crackato non l'ho buttato giù ma lo farò adesso no apri dove sei un balordo che mi hai preso eri qui eri là sta buono sta buono sta buono che si è servato mi ha dato sei servato una bomba allora c'era uno qua che mi crossa in faccia potrebbe questa tutta a destra c'era uno eccolo qua 3 2 1 un po' più basso mi devo mettere là con il contagoccio devo stare là tutto storto per cercare di ammazzarli questi babbalordi ma devo stare là così via sono stanco sono stanco stanco sì ma stanco per gesù qua camioncino d'altra persona e si va e si va c'è chi non l'ha da chi 3 2 1 bruschettato ok va via è uno quello sì che è uno ha una pianta cazzo una pianta allora allora ci copriamo da qua vediamo un po' da sotto tocca sta attenti che potrebbe arrivare qualcuno abbiamo uno sotto qua giù perfetto un altro qua non so se ha perso il fight però c'è chi lo che mi ha mirato là sopra oh caglio rips becca le ste spips mamma staccate internet controllate che c'è qualcosa di acceso per forza mi fa delle piccole spike lag mi sparano 3 2 1 togliamoci dietro prima eccolo qua lo so lo so alcune volte può far male può far male può far molto male mamma mia ok allora quindi ce n'abbiamo uno la perfetto allora analizziamo analizziamo ce n'abbiamo uno la qua qua giù sicuro la casa a sinistra quindi quello è un problema quello è un grosso problema perché mi ulterà sicuramente al cento per cento gli altri saranno dentro le casette il camion sono stato stupido perché lo potevo utilizzare no raga qua mi serve devo prendere la kill però là però ragazzi non mi posso non entrare sti cazzo di colpi vabbè questi si sparano non lo vedo non l'ho visto però raga non ho 3 1 sta là e 1 mi sembra di averlo visto qua a sinistra possibile basta però ragazzi è diventata una maledizione comunque giustamente c'è chi corre e io devo rincorrere vabbè cucco come sei cazzo daie anche se il car non mi nocca più mi spacco uguale 4 2 3 secondi cioè col car il parcozio io ho dovuto fare mille airshot e dai oh non si muore guarda il ping come mi fa guarda come fa centoventicinquanta guarda no porcozio sedici bombe sedici bombe sedici bombette è proprio così e dai valerio bam 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 c'è tutto usa il tundra no che stai pazzo